Io sono Francesco Boccia, sono pasticcere e cioccolatiere. La mia storia nasce nella pasticceria di la famiglia seguendo mio nonno e mio padre che hanno iniziato l'attività già nel 1975. Quindi sono cresciuto all'interno del laboratorio di famiglia, ho proseguito con quelli che erano degli studi che riguardavano quel settore. Dopodiché ho intrapreso quello che è la strada della consulenza. La tappa più importante della mia carriera c'è stata quando assieme alla squadra italiana ho raggiunto la vetta del mondo guadagnando il titolo di campione del mondo alla CUP di Mondo della Patisserie nel 2015. Un titolo che mancava in Italia da tantissimi anni. Chi assaggia una mia creazione si deve aspettare qualcosa che emozioni e quindi creare dei prodotti che cercano di mettere d'accordo un po' tutti, che ti trasmettono un'emozione e il risultato al quale si deve puntare. A chi inizia oggi ad intraprendere questo lavoro consiglierei non bruciare le tappe, ma cercare di migliorarsi giorno per giorno e ovviamente mettersi alla prova, assorbire gli stimoli esterni, non restare in quelli che sono le quattro mura del laboratorio, ma guardare quello che c'è oltre. Il corso che stiamo affrontando insieme è un corso legato al mio concetto di pasticceria. Sto lavorando assieme ai ragazzi, a quelle che sono le ricettazioni, per far sì che ogni persona possa creare il proprio dolce, seguendolo da quello che è l'inizio alla fine. Ci siamo focalizzati anche su quelle che sono le tecniche di gestione dei prodotti e l'ingredientistica presente all'interno delle ricette, andando a lavorare quindi su quello che è la parte tecnica che non viene immediatamente percepita dalle persone. Ciao ragazzi, vi aspetto al mio prossimo corso. Mi raccomando, non mancate! Ciao ragazzi! Mi raccomando, non mancate! Grazie.